E continuiamo con la terza categoria, oddio, un giovanotto già grande così, partiamo con il primo, Matteo Piano, Matti, ci siamo visti anche l'altra volta, Matteo, bravissimo, allora, tu hai sedici anni, e cosa studi? Vai al liceo? Scientifico Scientifico, oddio, la matematica, uh, eh, il tuo sogno nel cassetto è? Diventare un cantante Un cantante, uh, oggi ci porti un bellissimo brano di Mario Biondi, Be Lonely, ok, il porco è tutto tuo, Matti, grande Be Lonely, but tell me, there will be no, no, no. Be Lonely, be Lonely, be Lonely, and show me, sound your ways, through feeling, I have thought, you were in my world, and know it was no, no. Be Lonely, be Lonely, and know it was totally, if you leave, come and know it was no world, and know grupo'd and know it was true, but more amig And with me, will carry, in lonely, but tell me, sound you is, will be this, come alone, you know that I have, And never fall again, you stay in my heart, and always smile it, oh, I'm alone, all I can say, I'm alone at night and days, Be lonely. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti